Ciao ragazzi, sono Edoardo Bessi e lui è Stefano Gori e siamo istruttori di Sala Pesi nella palestra Universo di Montemurlo. In quest'area ci occupiamo io dell'allenamento funzionale, mentre Stefano si occupa della parte del calisthenics. Ok, allora questa è la struttura della palestra Universo di Montemurlo, dove insegniamo calisthenics. Calisthenics cos'è? È un allenamento a corpo libero, dove utilizziamo solo l'utilizzo del proprio corpo per fare vari movimenti. In più possiamo utilizzare anche l'utilizzo di sovraccarichi, perché ci sono tre varianti di allenamento. Abbiamo l'endurance, che lo possiamo utilizzare per la resistenza, per il dimagrimento, un po' per tutto. Abbiamo le zavorre, quindi faremo le basi dove andiamo a fare tirata e spinta, quindi trazioni e dip, alle parallele oppure alla sbarra, con un sovraccarico, quindi avremo bisogno di una cintura e dei pesi. Oppure le skill, che sono delle figure, come possono essere verticali, front lever, back lever, planche. Un esercizio base sono i dip, che andiamo a fare col sovraccarico, quindi un allenamento di zavorra. È importante mantenere bene la spinta a scapolare verso l'alto. Stacchiamo tutto, quindi non siamo qua, ma siamo qua. E poi ci andiamo a piegare in avanti, finché non arriviamo a spaccare il parallelo col gomito e spalla. E poi torniamo su. Un altro esercizio, trazione, esercizio base sempre libero, oppure col sovraccarico, anche in questo caso con la zavorra. Si impugna bene la sbarra, si staccano i piedi da terra, quindi non ci si dà aiuto. Si apre bene le scapole quando si scende e poi si tira fino a chiusura. Si scende. Per quanto riguarda invece la parte skill, anche qua c'è una suddivisione in tirata e spinta. Ci sono anche degli ibridi, tipo mascolap alla sbarra o lo human flag alla rastrelliera. E adesso vi faccio vedere un paio di esercizi. E adesso vi faccio vedere un paio di esercizio base. Adesso vi faccio vedere un paio di esercizio base. Po la pass flore, pass flore, pass flore, pass flore.